Un cantiere abbandonato da tempo che sta sprofondando nel degrado. È questa la situazione della struttura che doveva diventare la scuola di Collero Mito. Nonostante gli esposti e le richieste di intervento dei cittadini, i lavori per completare l'opera non ripartono. La storia di questa scuola parte nel 2003. Nel 2003 il sindaco dell'ora fece un'ordinanza per acquisire questi sei ettari per costruire la scuola. Successivamente sono cominciate a partire una serie di problematiche perché il proprietario dell'otto poi successivamente tramite il tribunale aveva detto che era stato fatto un annesso di questo terreno non con i termini giusti. Tant'è che il comune di Ardia non ha mai messo questo nel patrimonio comunale. Nonostante questo il sindaco di Fiori nel 2008 ha stanziato altri 200 mila euro per terminare questo lavoro. Sono state fatte 3-4 inaugurazioni. Noi non riusciamo a facciamo denunce. Procuratore della Repubblica, Comune di Ardia, nessuno si muove. Abbiamo questo stato di abbandono con pericolo per bambini, incendi. Non riusciamo a venire a capo, quindi vorrei che qualcuno, la magistratura, facesse un po' luce su questa situazione. Questa è una scuola integrata assoluta, ci possono andare a drogati. Qua di notte chi è che gestiscono? Nessuno, ladri, cose, tutti. Però i nostri politici non gli raffrega un c***o dei nostri cittadini. Perché fanno come gli pare, se scarichano la colpa. Quei dei primi, quella di adesso. Avete in programma altre azioni? Sì, abbiamo in programma un'ulteriore azione con il nostro legale per denunciare il Comune di Ardia che a tutt'oggi dovrebbe avere ancora il possesso dell'area, che non è sua, però ne ha il possesso per tutti questi bandoni di metallo che possono provocare delle situazioni di pericolosità per le automobili e per i passanti che passano. Questa è l'ultima azione che si sta intraprendendo in questi giorni. dopo averne intraprese tante e tante altre. Il degrado ormai è arrivato anche ai bordi della strada. Da Colle Romito per Canale 10 Paolo Leone.